Da Viale Giotto alla zona dello stadio di Arezzo si amplia e non di poco l'area di collocazione dei banchi del mercato settimanale del Giotto ad Arezzo, che tornerà dunque con tutti gli ambulanti il prossimo 23 di maggio. L'intesa è stata raggiunta nelle ultime ore tra comune e associazioni di categoria, anche se ci sono alcuni ambulanti non troppo d'accordo con la soluzione trovata. Al fine di evitare ogni sovraffollamento, scrive l'amministrazione comunale in un comunicato stampa, il mercato interesserà oltre la consueta porzione di Viale Giotto anche il tratto compreso tra l'intersezione con Viale Raffaello Sanzio e Piazzale Roberto Lorentini. Scattano di conseguenza anche tutte le disposizioni per sosta e circolazione in aggiunta a quelle già consuete. Nei sabati, dunque, tra il 23 di maggio e il 1 di agosto, dalle 6 alle 16 sono istituiti divieti di transito e di sosta in Viale Gramsci, nel piazzale Roberto Lorentini inclusa tutta l'area antistante alla curva ospiti dello stadio, nel tratto di Viale Giotto che va dalla rotonda che incrocia con Viale Raffaello Sanzio fino a Viale Gramsci. Ci saranno ovviamente disposizioni precise anche per i clienti che, oltre ad indossare le mascherine e mantenere la distanza di sicurezza, potranno toccare la merce solo indossando i guanti. La merce non si può toccare se non con i guanti, poi ci sono ovviamente sempre un numero contingentato per entrare all'interno del banco, e le distanze, disinfettare le mani all'entrata, insomma queste cose qua.